ciao vi presentiamo eca infografica uno studio creativo di motion graphics specializzato nella realizzazione di contenuti video siamo un team di creativi ognuno con una formazione specifica pronti a tardi dai tuoi progetti creando video capaci di informare in modo efficace innovativo e in grado di connettersi con il pubblico come contattaci per definire le linee guida per il tuo video raccolte tutte le informazioni necessarie attraverso un mood board ti presentiamo un'idea creativa ottenuti i feedback passiamo alla realizzazione dello storyboard e alla produzione del contenuto in breve tempo il tuo video sarà pronto per essere proiettato o pubblicato che